il tovagliolo so con te la mastica 2 tentativi 2 tentativi c'hai il tovagliolo qua hello everybody oggi video what's in my mouth è una challenge super divertente che farò insieme a Nicol Sara e Sara, perfetto farò morire queste belle due ragazze con dei ingredienti schifosissimi e quindi partiamo subito noi che iniziamo? da Sara da Nicol andiamo in guardia, ma fa bene tipo Nicol no dalla più piccola Sara io non gioco mi sento male sai che mi facessi più capito devi stare ferma ahhhh ahhhh aiutate a me fa schifo veramente l'ho comprato per caso questa cosa ah ragazzi aspetta che non uso che io in realtà questo non è ancora soltanto anche io lo devo non usare dai è ancora buono mmm mi è venuta un'idea ahhhh no fai così così si esatto non mischiate va bene poi dopo devi aprire bene la bocca aspetta che ho fatto questo qua giù esatto vabbè ci sono devi aprire bene la bocca ma fanno usare no è Nicol no infatti non devi non usare vai apri 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 c'hai il tovagliolo qua apri dopo devo la paletta ma dai è così schifoso quindi quello usato senza non lo so che mi posso dai hai capito dai sai che sto piangendo aiuto il mio E' un miscuglio, è un miscuglio di cosa? E' un miscuglio di cosa? No, è il primo tentativo sbagliato, è il secondo tentativo. E quindi? Cosa? Ok. Hai due tentativi, quanti te? L'ultimo tentativo. Non è un miscuglio, è un ingrediente unico. Formaggio? No, te lo facciamo vedere. Nico alla mano! Sugo alla soglia. Ma era sugo? Ma c'era così sugo? E quindi non posso andare un cazzo. Cosa sta combinando Gruggio che sentono i rumori? Era Nicole che si sedeva. No, era la sua cosa. Vedi qualcosa? Vedi qualcosa? A tutto il gatto non si vuole uccidere. Vedi qualcosa? No, voglio. Quante sono? Mi sto facendo male. Non vuoi trovarti la mini rigata, vero? Eh? Non vuoi trovarti la mini rigata, vero? No, no. Ma io non c'entro niente. No. Datemene poco, vi prego. Sì. No, sì. Però mi smettino a lui. Pensavo peggio. Sì. No. No, no. Arachidi! No. Cosa sento? Ci sono gli arachidi, no? No. 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 Come si dice? Cremali di sesamo. Eh, si chiama tahini. In pratica sono semi di sesamo, tostati e macinati Buonissime Oddio le tocca a me Ok Il fatto che le ragazze vanno a prendere Ah, certo Il fatto che le ragazze vanno a prendere Ok, tu sei? Anche pensavo fosse qualcosa di più buono Eh no, non è assaggi, il mio video assaggi vegan Questo è proprio what's in my mouth Ci sei? No, datemi la ciotola prima che devo scutare Oh, dè Oh, dè ragazzi Sì, è tornata a venerone Ok Ok, ci sei? Ho capito Beh, questo è buono Posso mangiarlo? Posso mangiarlo? Cos'è? In casa mia ci sono roba private Mi fassi un... Condi riso Il coso per condire il riso? Ni Beh, più o meno Sì Per la sba Meranzane sott'olio? Beh, ma più o meno Carciotti? Anche È un misto No, ho indovinato Più o meno è indovinato Sì È per il toast È un misto di verdure per condire i toast È buono Esatto Ho vinto Ho vinto già Oddio Sì, ti è andata di culo Perché la Whisper Challenge hanno vinto loro E poi c'è questa challenge la vincerò io, raga Ora tocca a Miki, raga Ok Allora ci siamo Però sputa prima sulla Ti dico che non è una cosa liquida Quindi non è che puoi sputare come ti pare Esatto Apri Nicole Non ha niente Ci sono Apri Come faccio a far afficcarti in bocca così? Nicole Vai, apri No, devi aprire bene la bocca Apri Assange Apri bene la bocca Vai Ok E qua il tovagliolo, qua Mana Cathy Cosa è che hai detto? Cathy No Curcuma Hai già sbagliato due volte Com'è che si chiama? Noce moscata, ragazzi A saperlo vedi voi Quante scene Bello Basta, raga Diciamo che Miki è negata È vegana Ora tocca a Sara Tocca a Sara, ragazzi Andre mi odia, io lo so Allora, perciò c'è una cosa che hai detto Che cura No, vabbè, ma così posso Così non respiro niente Ok Comando porzioni piccole che Non vorrei venire No, io intendevo di questo No, no, va bene così No, va bene così Per scoprirlo devi masticare No, non ci penso neanche No, no, se no non si è messa a cuore Perché sono due ingredienti E uno lo senti subito Ma l'altro devi masticare Almeno un morso devi dare Paura Apri Cosa? Un caffè Uno è sale Uno sì L'altro manca Non capisco Non ti è masticando No Cavolo Mi piace Ma non si riusciva a capire Niente masticando Allora fai così Assoggio solo l'ingrediente Senza sale Esatto Perché se no non si capisce Raga, ho solo la bocca invasa dal sale Ah cavolo Avrei bisogno di un bicchiere d'acqua Per capire l'altro Mi passa Questo ti passa Que buono da solo Volevo renderlo schifoso Cioccolato Cioccolato Però che cioccolato è? Amaro Amarissimo 99% Cavolo Che buono Amorevo Raga, io manco mezzo L'ho indovinata Vabbè, questo è buono No Buonissimo Che buono Aspetta Che buono Quello che si mette sull'insalata Aspetta L'aceto balsamico Però in crema Sì, la glassa Raga, 2 a 0 No, Sara ha indovinato Il sale e il cioccolato 2 a 1 a 0 Non ho capito Io, Nicole Non ho capito No, ma Nikki Devi aprire la bocca Però Ma te, adesso sai cosa facciamo Ne copriamo anche il nato Cercate di darmi anche me Degli ingredienti schifosi No A me non è pressa Raga, dovrò andare dallo psicologo Che cosa? Se ne dormo No Così Ah, lì Non ho capito bene Però è buono, dai È buono, sì Però io ti devo sapere Nel frattempo che lo assaggio Perché questo si capisce solo dall'odore Non c'è bisogno di assaggiare Esatto, perché ha un odore molto forte Sì Quindi, aspetta Ok, ti devi aprire il naso Vai veloce Come quando ci vediamo Apri, apri Apri Bene, bene È una cosa liquida Apri Non c'è bisogno di assaggiare Non c'è bisogno di assaggiare Non c'è bisogno di assaggiare Ah, non mi... Ah, vabbè, me lo scrivi È un po' specifico, dai È un po' specifico Dai Ha un nome... Questa non puoi non indovinarla Ti piace anche Non così da sola Però non puoi mettere... È un po' di soia Piccante, è un po' di soia Dai, la salsa... La sai? Piccante Vanno lì cinesi, Giappo Sì No, no, no Aspetta, ce l'hanno i cinesi Ragazzi Sì, vanno le cinese Ma io non so il nome È impossibile Lo sai, lo sai Aspetta, le do l'indizio posto Vai Almeno così dove lo vina Lo mettete, le mettete tantissimo No, Tabasco Tabasco Si, non scarabino Se non mettete almeno un 1500 mi piace Io vi giuro che ad ognuno di voi Vengo a casa e fa un mazzo Ok Come sapete Fu così che andrei a mezzi sui polli Ok, basta, basta Sono due ingredienti Aspetta, aspetta Ma con me tutte le cose complicate Sì, ma... E per questo devi tipo proprio... Perché mi tenete Pronta? Devi mescolare con la lingua Cosa vuoi dire? Abbi cammelli Minchia Allora Sta riconoscendo Ma magari è buono È buono? Sì Ah, vedi? Ma si sente solo un sapore Io scusi Ma non glielo ho detto No, ma comunque cosa non si sentiva Ahà Per niente Cosa si sente? Non capisco cosa sia No Sembra È cosa che gli è andato prima a te Per condire le cose Cosa? L'aceto passavico? No, no Il condito Ah, è vero Boh, ci sono i legumi dentro È vero Ha indovinato un ingrediente che c'è nel sugo Ovvero La soia Ti arrendi? Sì Il sugo che gli ho dato prima a Niki Mischiato con me Ha detto il sugo Sì, esatto Anzi Finiamo con me? No, dai Dai, l'ultima manche Ma stai c'è lo tenendo lì Però è una cosa schifta Non so È un tovaiolo Aspetta Aspetta Puoi deglutire Uno, due, tre Mastica, mastica Io ho dato che moriva Cannello Che schifo i denti E poi? E poi? Secondo me Secondo me non si riesce di riconoscere Come cosa Mi rado a tastire Non ci riconosce, raga Aspetta Cannello e pepe? No Quasi Non è A dire la verità Non è malissimo Perché è dolce La cannella è dolce Non lo riconosco l'altro, raga Vabbè, io saperò la mia cannella Cannella e non lo so E peperoncino Ma piccante Erano i pesci di peperoncino proprio E perché li ho sputati, vedi? Cavolo, li ho sputati quindi non li ho sentiti Che schifo però I mica erano buoni La cannella è buona Eh, però la cannella è troppa Eh sì, mi è andata nei polmoni È piccante poi anche Che schifo, ragazzi Ragazzi, abbiamo finito Vedo tutto appannato Non riesco più a parlare Perché l'ultimo ingrediente mi ha ucciso Ho gli occhi lucidi però Ho gli occhi lucidi Spero che questo video vi sia piaciuto Con queste tre ragazzuale Un miliardo di like in un'altra vita Io ho fatto solo l'assistente Però dai, meno male Iscrivetevi al canale E niente E mettete tanti like Tanti commenti Seguitela su Instagram Su Facebook Bravissime E su Basta E sono brava A breve tante novità Un bacione ragazzi Ciao Ciao